Ciao amici di MTB Mag e bentrovati anche questa settimana con un nuovo video Tech Corner. Quest'oggi, questa settimana, parleremo di e-bikes e ci occuperemo di un argomento molto molto dibattuto. Parleremo infatti di coppia massima del motore. Prima di entrare in vivo nell'argomento però, come sempre, voglio ricordarvi che se vi piace i nostri video potete dare il vostro supporto. In che modo? Sottoscrivendo l'abbonamento che con neanche 2 euro al mese permette di dare un piccolo, ma sostanziale contributo alla realizzazione di questi video. Allora, il motore, come noi ben sappiamo, è un motore in grado di generare una determinata forza. La coppia massima, per esempio gli 85 Nm del Bosch, dello Shimano EP8, i 95 Nm del Panasonic o i 60 Nm di questa Rise, sono la coppia massima che il motore è in grado di generare. Ovvero, che cosa si intende con coppia? La coppia massima è la forza massima che il motore è in grado di imprimere sulla corona. La coppia è oggettivamente una forza da un punto di vista fisico. Indica un valore di picco massimo di forza che il motore è in grado di erogare. Questo cosa significa? Che il motore arriva fino a, qui abbiamo una Rise, quindi 60 Nm e oltre quelli non va. Questo parametro è un parametro molto importante perché determina il massimo stress che poi arriva al telaio. Cioè la forza massima che il motore è in grado di erogare è un parametro molto importante che ci dice anche effettivamente se è più o meno potente rispetto ad un altro motore. Mediamente più Nm significa più forza, significa che il motore è in grado di spingere di più. Però la coppia massima che il motore è in grado di erogare non è l'unico parametro a tenere in considerazione. Perché la coppia, in termini, i famosi newtonmetri, i 85 o i 60 di questa Rise, sono la coppia che viene esercitata qua, sulla corona. Ma questo nulla ci dice su qual è l'effettiva forza che poi la ruota trasmette sul terreno. Perché la forza che viene trasmessa dalla ruota al terreno viene moltiplicata da che cosa? Dalla trasmissione. Quindi a parità di coppia, ipotizziamo che un motore eroghi 85 newtonmetri, non è detto che generi più spinta di magari un motore da 70 newtonmetri con una rapportatura più vantaggiosa. L'emblema è la Rise. La Rise, ad esempio, è limitata a livello di coppia, ma utilizza una corona più piccola che permette al motore di avere una moltiplica della forza, quindi di avere più forza motrice, quindi più forza scaricata dalla ruota al terreno. A seconda del rapporto inserito, potremmo avere una quantità di energia in gioco diversa, o meglio, 85 newtonmetri con un rapporto agile generano molta più energia rispetto a 85 newtonmetri con un rapporto 2. Ed è qui che entra in gioco, che bisogna considerare il limite di questo parametro e iniziare a ragionare in termini di potenza erogata dal motore o meglio in termini di livello di supporto. Da un punto di vista legislativo, tutte le biciclette pedalate assistita devono avere una potenza nominale di massimo 250 Watt. Dal punto di vista legale non si parla di newtonmetri, ma si parla di potenza, perché è la potenza quella che effettivamente ci dice quant'è il quantitativo di energia in gioco che viene immesso dal sistema motore sulle bike. Nulla ci dice per quanto riguarda la potenza di picco. La potenza di picco, ovvero, quant'è il massimo che il motore può occasionalmente raggiungere senza però tenerla in maniera costante. Parliamo di un picco che poi scende. Questo valore, la potenza di picco, è uno dei parametri più importanti per determinare l'effettiva potenza di un motore. Per attenzione, la potenza, in termini di Watt, indica quanta energia il motore sta immettendo al sistema ed è totalmente ininfluente dal tipo di rapporto che c'è al posteriore, nel senso che questo è il quantitativo di energia. Parlari quindi di un motore che magari genera 450 Watt, 500 Watt, indica che questi motori non hanno solo una forza maggiore, quindi una coppia massima diversa, ma hanno proprio la capacità di immettere più energia al sistema, ovvero di spingere di più. Quindi bisogna prendere in considerazione, per valutare la potenza di un motore, la potenza in termini di Watt di picco. 250 lo sono tutti perché è un parametro basso, ma alcuni motori possono andare decisamente oltre. Un altro parametro da tenere in seria considerazione è il livello di supporto o il livello dell'asservo assistenza, come la chiama Shimano. Il motore va visto come un, stiamo un po' semplificando, un moltiplicatore di forza. In base a come è settato, se io spingo 10 kg, lui ne genera mettiamo 10 kg. In tal caso si ha un livello di supporto del motore del 100%. Se il nostro motore quando io spingo 10 kg ne genera 20, abbiamo un supporto del 200%. Adesso parlo di chili, i più precisini avranno da ridire perché si dovrebbe parlare di coppia, ma semplifichiamo in maniera piuttosto un po' grossolana per rendere più chiaro il concetto. Il livello di supporto, ovvero il livello di moltiplica della forza che noi imprimiamo con i pedali, è un parametro oggettivo che ci descrive quanto il motore ci supporta. Il livello di servoassistenza, ovvero quanto il motore moltiplica la forza, è quello che mi dà l'idea, cioè è quello che rende quanto il motore mi supporta durante la pedalata. Quindi, se io sono ad esempio con una spinta bassa, se io ho un livello di servoassistenza del 400% e magari anche solo 40 Nm di coppia massica, se io ho un livello di assistenza bassa, la bici spinge e va da sola. Se viceversa io ho un livello di servoassistenza basso, ma una coppia altissima, la bici non andrà a nessuna parte, perché per raggiungere il parametro di coppia massima io devo imprimere tantissima forza sui pedali. Ecco che quindi il concetto di coppia massima perde un pochettino importanza in termini di capire quanto ci supporta, quanto ci aiuta un determinato motore. È un po' il concetto che c'è nella Rise. La Rise è una coppia limitata, a 60 Nm, ma se io alzo il livello della servoassistenza, poca miseria se mi sostiene, consuma anche tanto, ma mi dà un eccezionale livello di supporto. Limitandosi però a un livello di 60 Nm, quindi se io comincio a pestare tanto sui pedali, il motore arriva al limitatore e oltre di quello non va. Ma se io sto affrontando una salita senza essere l'incredibile Hulk che pedala con 3 milioni di watt, la bici mi dà un livello di supporto del tutto paragonabile a quello di altri sistemi. Per assurdo, un motore che è limitato a 60 Nm, lo stesso motore limitato a 60 Nm, ma con un livello di servoassistenza alta, ci dà più supporto di un motore con una coppia più alta, un livello di servoassistenza bassa. E qui entra in gioco l'errore comune, quello di considerare solo la coppia e di non considerare il livello di supporto della servoassistenza. E come vi ho anticipato, poi dipende anche dal discorso, la spinta che c'è in termini di trazione dipende anche poi dalla marcia inserita. Per cui non è detto che con un determinato livello di supporto si raggiunga il picco della coppia con tutte le marce. È quindi corretto considerare la coppia come l'unico parametro di valutazione di un motore? Assolutamente no. Io personalmente considero molto di più il valore di potenza massima, perché è quella lì che effettivamente ci dice quanto il motore può spingere, perché la potenza, se è più alta, significa che il motore spinge anche di più, spinge di più a livelli di coppia che non sono al massimo. La coppia massima elevata al motore è il massimo che può spingere, ma noi nel 99.9% delle situazioni in cui usiamo le barche non siamo mai al massimo della spinta del motore. Secondo, molto più importante parametro nella valutazione del motore, ma anche nella customizzazione del motore, è il livello di servoassistenza. Naturalmente poi parlare di numeri fine a se stessi ha senso fino a un certo punto, perché poi entrano in gioco gli algoritmi di gestione delle dinamiche di pedalata, che possono dare dei feedback più o meno diversi. Lì ovviamente sono dei fattori che non si possono considerare su una tabella tecnica, ma dipendono dal feedback che trasmette il motore, ma sono scelte progettuali precise che fa chi progetta il motore. Magari ad esempio di dare una risposta più morbida in partenza, sto facendo un esempio un po' banale, può dare un feedback di una minor potenza, ma dare possibilità di avere un maggior controllo sul fuoristrada. Invece un motore che parte subito forte ci può dare magari un input di dire che spinge tanto, ma poi in realtà questo motore può dare meno supporto in una fase di pedalata a continuo. Qui si parla di scelte tecniche da parte dei produttori, nel senso che ovviamente sulle bike bisogna bilanciare potenza erogata e consumi, e quindi anche lì bisogna un attimino ottimizzare i consumi, e questo può dare un feedback diverso in termini di utilizzo. Valutare un motore, un sistema e-bike, solo da un numerino, in questo caso solo dal numero del valore di coppia massima erogato, è molto riduttivo e poco ci dice sulle caratteristiche di questo motore. Ma vi dico che in tutta onestà l'unico modo per capire se un sistema e-bike funziona bene, ci piace o no, è quello di metterci il sedere sopra e provarlo. Cos'altro aggiungere? Non mi resta che salutarvi, vi ricordo che se volete venirmi a trovare mi trovate sempre qui, da Bike Lab, via Venezia 11 Beinasco, proprio all'uscita del tangenziale di Torino. Per il resto, se volete continuare la visione, qui e qui, trovate altri interessanti video correlati. Ciao a tutti, appuntamento, a settimana prossima!